Polizia durante la buschetta di un ombo con la barbara con la quantità di pièce. Fuori di un veicolo di marca Kia. Tò che ora di notte con la polizia buscogli un ombo con la barbara con l'arma di candela di mano. Fuori di una borsa con ilegali. Durante la buschetta di casa con la quantità di partenze. Fuori di un veicolo che probabilmente ha fatto. Non puoi vedere quel vettore cioè se il veicolo, però si tutto il pièce. non. Tome decorare di casa bianca planti di marihuana con la chieda confiscata. Nel sito, un candidato di romper a chieda listrarà una bianca sigarie di marihuana dopo che il suo nome sarà notato non può andare fuori di sito.